Presidente, siamo qui in occasione della settima edizione di Place per fare il punto sulla cardiologia ma anche su tanti altri temi. Quali sono le aspettative per questo incontro? È un incontro, come dice giustamente lei, tra tanti professionisti, soprattutto anche di specialità diverse. L'idea è quella di creare un posto, Place, dove si possono incontrare cardiologi, medici di medicina generale, medici sportivi, geriatri, internisti, nefrologi, chirurghi e credo che la visione unitaria della medicina e non ultra specialistica sia una grande fortuna. Ci saranno in questi giorni quasi 3.000 persone e ognuno con la sua competenza, i suoi interessi, però che si vanno a incontrare. Crea una forma di apertura mentale, pensiero laterale che fa bene al mondo cardiologico, che così non diventa autocentrico ma si tende ad espandere e aprirsi verso tutte le altre discipline. Viceversa abbiamo il contributo di persone che sono magari persone che si occupano di alimentazione o di sport o di reni e il mondo cardiologico ne ha molto bisogno e ha necessità di avere la testa più aperta verso queste aree. Presidente, uno dei focus è il progresso anche della telemedicina, per cui il Policlinico Casilino è un'eccellenza in questi termini. Può parlarcene, può raccontarcene? Sì, la telemedicina è, come dice la parola, giustamente la modalità di gestione a distanza dei malati e possiamo applicarla in vari settori. La cardiologia è un settore dove certamente sta esplodendo la telemedicina e la possibilità di refertare elettrocardiogrammi a distanza, oltre a distanza, la possibilità di gestire dei malati a distanza come per esempio soggetti scompensati o soggetti che hanno vari tipi di patologie e avere con loro dei sensori che in maniera semplice tramite telefoni o tramite iPad o comunque della modalità di connessione estremamente semplice ci trasmettono quotidianamente quello che sono i loro dati è estremamente utile. Tenete in conto che al Policlinico Casilino seguiamo quasi 2000 malati per questo tipo di patologie e molti di questi sono persone anziane che così evitano di venire in ospedale e soprattutto evitiamo quelle condizioni di scompenso acuto semplicemente sistemando la terapia o contattando il paziente telefonicamente. Inoltre molti soggetti hanno la fortuna di poter fare un elettrocardiogramma magari al proprio domicilio va un operatore o un infermiere, fa un elettrocardiogramma magari a una persona che è allettata o un paziente che è terminale o un paziente che ha una neoplasia o uno scompensato grave che non può essere accompagnato per vari motivi anche di disagio sociale e con un costo ticket ha la rifertazione in un minuto perché l'operatore fa l'elettrocardiogramma ce lo trasmette, noi lo rifertiamo in tempo reale, ritorna indietro e viene stampato. Questo vuol dire una semplificazione pazzesca delle cose. Se voi pensate che già in molte farmacie italiane con cui lavoriamo si ha la possibilità di andare lì, fare un elettrocardiogramma e avere subito una risposta voi capite che questo qua è soltanto la punta di un iceberg di un mondo molto molto più interessante che sarà la possibilità in un futuro per qualsiasi persona che voglia fare un'azione di screening o una donna in gravidanza che vuole fare un elettrocardiogramma di dire vado a fare l'elettrocardiogramma e ho la risposta subito, costi contenuti senza spiegare tempo e senza fare fili inutili. È una rivoluzione di cui noi stiamo vedendo soltanto l'inizio.